Allora, questa mattina sto esplorando un gruppo di grotte che si presume potesse essere anticamente una necropoli. Questa è l'ultima grotta di un costone tufaceo, che risulta la più nascosta delle precedenti. Ora andiamo a vedere quanto è lungo, perché da qui non si riesce a capire. Allora, questa è la parte posteriore, cioè posteriore, diciamo, è l'ingresso. Sono io che mi sono voltata. Ora ci vediamo dopo alla fine di questa grotta per riprendere la parte terminale. Guardate, è bella la parte finale, ragazzi. Sembra che non finisce più. È incredibile. Ora andiamo insieme a voi. Sto proseguendo. Guardate, è enorme. Guardate che bello. Guardate. Che spettacolo. Guardate. Si sale a cono. C'è un enorme cono in alto, come una buca da cui si sale. Guardate qua su. Addio. Non riesco a salire che ho le cose in mano e scivolo. Perché guardate il terreno com'è. Guardate che bello. È incredibile. Io non riesco a fare oltre. Non riesco a salire oltre. Aspetta, scivolo. Bellissimo. Guardate che bello. Ora mi giro. Guardate. La parete. Che bello. Guardate qua. Com'è. E com'è. Ecco qua giù. Guardate. Vedete. Com'è fatto. Guardate. Questo è il soffitto. Superiore. Bellissimo. Veramente bellissimo. Dovrei riuscire ad arrivare ancora più su. Vediamo se ce la faccio. Ancora salita in alto. Questa è veramente la fine. Guardate che spettacolo. Guardate che vortici. che si creano sul soffitto. Tutto circolare. Sono due cerchi concentrici. Guardate. Qui sembra appiattirsi come se fosse una frana che va a chiudere su da capo. Vedete. Guardate che soffitto. Bellissimo. Incredibile. Questa guardate dove sto. Guardate. Ora devo riscendere giù. Ecco. Guardate che bello. Spettacolo. Spettacolo. Ragazzi. Che bello. Ora prendo questo scivolone. Questo scivolo. Guardate che fantastico. questo è il frammento di un osso. Allora ritorno un attimo sulle pareti perché non le ho riprese prima impegnata nella salita. e queste pareti come vedete sono anche queste. Ritroviamo le solite picconate molto grossolane. Vedete colpi grossolani di piccone. Quindi questa è completamente scavata. vedete. Ecco. Ecco qua. Vedete. Queste sono le pareti laterali. Questa inizia come grotta e però ha uno sviluppo in salita a tunnel. Grazie. Grazie.